Domani dunque, con prima convocazione alle ore 8, tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale ad Acireale. La Tari, la nuova tassa sui rifiuti, una delle tre componenti della IUC, l'imposta unica comunale, sarà al centro della seduta di domani. Il Consiglio dovrà confermare o modificare il testo approvato in giunta la settimana scorsa, in cui si fissa il primo acconto da versare entro il prossimo 16 settembre, acconto che sarebbe calcolato sulla base della Tares dell'anno passato. Il Consiglio Comunale Acese domani sarà chiamato a votare anche le altre tre scadenze, fissate per il 31 ottobre, 16 dicembre e 31 gennaio. A settembre invece il Consiglio Comunale dovrà votare i regolamenti Tari e Tasi, e lì si capirà se ci saranno i tanto temuti aumenti. Venerdì invece, con prima convocazione alle 18.30, inizierà l'esame delle quattro legittimità di debiti fuori bilancio. Grazie. Grazie. Grazie.